Freedom Per avere dei risultati Visto che siamo alle porte dell'estate Allora innanzitutto Se abbiamo fatto un inverno Diciamo di bagordi Perciò poca attività fisica Molte serate e molte cene Come presumo uno voglia In un mese mettersi un po' in regola Parliamo proprio di loro Dobbiamo cercare di andare a togliere Comunque dall'alimentazione Le cose diciamo nocive La prima cosa l'alcol Perciò le serate nei locali Dobbiamo cercare di tenerle magari Cosa può avere una persona Che vanno in locale la sera ad esempio Non è che se dovete smettere di uscire Potete uscire però Bevete ad esempio il suco di frutta Magari ci sono anche dei cocktail Mettiamo alcolici Non alcolici Perciò non lo so Dei cocktail che magari contengono Della frutta Dei liquori magari non Zuccherati non alcolici Poi andiamo a cercare di togliere I grassi animali Che ne so Le cose diciamo più nocive Che possono essere burro Via il burro Margarina? Formaggio grasso Margarina Iocca va bene quindi Dio Se vogliamo avere in un mese Un risultato diciamo buono Dobbiamo cercare di tenere l'alimentazione Più magra possibile L'azione strong Perciò una dieta mediterranea Che però non sia né troppo abbondante Né troppo grassa Perciò pesce va benissimo Azzurro anche perché qua Ne abbiamo a Iosa Carni bianche Pollo Tacchino Carne rossa no? Carne rossa una o due volte alla settimana Dai non è che la carne rossa fa male Anzi comunque una o due volte alla settimana Ci può aiutare Perché comunque contiene del ferro Che comunque a lunga andare Ci dà una mano anche per comunque per stare meglio Verdure crude Verdure senza limiti vero? Di solito? Oddio Se non le condiamo Senza limite no Però dai Diciamo che comunque Piuttosto che un piatto di spaghetti Meglio una verdura abbondante Se no si mangia un chilo di carote Dai non fa negrosce Sarebbe meglio una verdura a foglia verde Che comunque contiene meno zuccheri Perciò le carote e i pomodori Magari in questo mese Cerchiamo di Cerchiamo di quitarli Dai Perciò diciamo Colazione Dell'avena Che comunque ci dà Tiocchi d'avena Comunque un cereale Con un carboidrato diciamo All'into rilascio Che ci dà l'energia per tutta la giornata Le cose migliori sarebbe La farina d'avena I fiocchi d'avena Anche del latte magro assieme Poi mettiamo una fonte proteica Che può essere Che non so Uno yogurt magro Va benissimo Qualche uovo Va benissimo A metà mattina un piccolo frutto A pranzo Un primo Solo se proprio siamo Diciamo abbastanza In forma Se non siamo in forma Un secondo Tipo una carne bianca E ferri Con una verdura Dell'olio d'oliva Ma tra il primo E la carne Se uno deve proprio Veramente dimagrire E toglie il primo Mangia la carne Sarebbe meglio Sarebbe meglio Condimenti Olio crudo Olio crudo va benissimo Due o tre cucchiai al giorno Va benissimo E poi la sera Sale? Sì Il sale va usato Si può continuare a usare? Certo Perché comunque il sale È un componente Che nel nostro organismo serve Chiaramente non andiamo a toccare le cose salate di suo Tipo gli insaccati Tipo prosciutti Salami Che contengono un sale nocivo Però i prosciutti e i salami Ad esempio Andrebbero evitati In questo mese magico Dove dobbiamo recuperare E poi la sera Se abbiamo l'opportunità di cucinarci del pesce Sarebbe la cosa migliore Con delle verdure cotte E sempre accompagnato Perché dicci verdure cotte? Perché la sera comunque la verdura cotta Ci aiuta È più digeribile In più ci aiuta a smaltire Più liquidi Perciò riusciamo ad andare in bagno più volte Nell'arco della notte E andare in bagno più volte Significa anche dimagrire? E ci liberiamo magari di Tutte le cose in eccesso Che abbiamo accumulato nell'inverno Ma questa non la sapevo Quindi le verdure cotte aiutano a smaltire? Le verdure cotte la sera Sono più diciamo Hanno un effetto più diuretico Delle verdure crude Perfetto Allora invece Questa è per quanto riguarda L'alimentazione non abbia finito E l'acqua? Quanto bisogna bere? Quanto ne vogliamo Possiamo bere anche 4-5 litri Anzi più ne beviamo E più il nostro corpo ne spelle Perciò Riusciamo comunque a idratare il corpo Che comunque adesso arriva la stagione calda Perciò Il corpo tende comunque a sudare di più Perciò brava Perciò abbiamo bisogno di un surplus d'acqua Perciò L'acqua è limitata L'importante è che sia acqua Che non andiamo a cercare Tipo Sprite Light Queste cose qua Tisane? Zuccherate? Beh vabbè le tisane non è che fanno male Ci sono anche diciamo Quelle drenaci Adesso ci sono anche delle Se uno proprio non vuole bere l'acqua Diciamo Cruda Proprio dalla bottiglia Ci sono degli integratori Che non contengono zucchero Ma che danno un sapore A questa acqua Magari uno che beve tanti litri Magari dopo un po' si stufa Ci sono delle buste Che comunque copriamo Che danno un leggero sapore Sarà del limone Ma andiamo a vedere Quella creatività fisica Allora Riesce a rimediare A qualcosa che magari d'inverno Adesso mi scrivi in palestra Però è chiaro che comunque Non è che in un mese A meno che una persona Non è abbazzata dal signore È chiaro che in un mese Non possiamo fare grandi cose Però magari riusciamo un po' A metterci in forma La nostra testa sta meglio Andiamo in spiaggia Andiamo in spiaggia Con un diciamo Quindi calare pancetta Andiamo subito Perché abbiamo poco tempo Calare la pancetta Si comincia con gli addominali Non servono questi addominali Se una signora Riesce ad avere gli addominali Per un mese Vuol dire che Può stare a casa Non gli serve fare la palestra Vuol dire che è già a posto Di per sé Vabbè però tipo Durante questo mese Tutti i giorni Un'attività aerobica Che può essere la camminata Magari la sera Se una persona Magari riesce ad avere Magari l'opportunità Di allenarsi Magari con i pesi La mattina La sera va a farsi Una corsetta Su lungomare O anche una camminata 40 minuti Perfetto Basta in 40 minuti Allora possiamo ottenere Anche un'alimentazione Con un surplus Un po' calorico maggiore Poi Addominali Dai facciamo fare Addominali Li possiamo fare anche a casa Tutti i giorni Anche tutti i giorni 500 500 no Dai facciamo Non lo so Ci mettiamo Sulla base del letto Con Con le gambe a 90 gradi Senza alzare la schiena Facciamo un crunch Che praticamente Comprime la parte Degli addominali 5 serie da 25 Con un minuto di pausa Fra una serie e l'altra È più che sufficiente Tutti i giorni Tutti i giorni Glutei Squash Squat Squat Sì Squash è un'altra cosa Squat Glutei Sì Dai Se una persona riesce a farlo Tutti i giorni Tutti i giorni Braccia Qualche flessioncina Poi uno Insomma Si sa gestire Vede le cose Ci sono anche dei programmi Che comunque In diretta Allora Direi che Un'infarinata Ve l'abbiamo data Adesso dovete Procedere a fare Questi allenamenti Tutti i giorni Mangiare sano E per giugno Se dovete andare al mare Forse Dei risultati Li avrete Allora In bocca al lupo Ci vediamo l'unidì prossimo Salutiamo con la telecamera Ciao Stefano Alla prossima E buona spiaggia E buona spiaggia